Super bonus edilizio del 110% le casse dello Stato piangono anche a causa degli abusi nell'attuazione dello strumento che mira, ma a questo punto il verbo è da declinare al passato, all'efficientamento energetico di decine di migliaia di edifici privati. Con Goffredo Taccone, presidente dell'ordine dei dottori commercialisti della provincia di Sernia, un commento alla decisione del governo di bloccare la cessione dei crediti ufficializzata mediante il decreto dello scorso 17 di febbraio. Un provvedimento, spiega il governo, resosi necessario per mettere un'argine all'enorme spesa pubblica per il finanziamento della misura. Ciò nonostante non sono mancate le critiche degli imprenditori edili. Il problema è una questione di finanza pubblica da una parte perché il governo non aveva più fondi per rimettere sul 110. Il problema maggiore però, d'altra parte, è la cessione del credito perché gli istituti di credito, le banche, non riceviscono più, non vogliono più il credito d'imposta da parte delle imprese e dei cittadini. Quindi le imprese alla fine si trovano con questo credito e non sanno che farsene. Presidente, ma a suo avviso c'è il rischio default per le imprese edili? Sì, è molto molto alto, perché come stavo dicendo prima, il problema è una questione di liquidità. Il credito è buono fino a un certo punto, però le imprese hanno bisogno di liquidità perché acquistano materiale e con il credito non pagano il materiale. Quindi c'è il rischio default da parte di molte, soprattutto le piccole imprese, le grandi sono strutturate, riescono ancora a reggere. No, è ancora in essere per tutti quelli che hanno presentato la CILA o relativamente ai condomini, hanno deliberato i lavori del 110 prima del 16 febbraio. Per tutti quelli antecedenti al 16 febbraio hanno la possibilità di svolgere i lavori con il 110. Rimane sempre il fatto di poter trovare un istituto di credito che lì c'è, che acquisti il credito. Da tecnico dico che il governo non ha sbagliato, perché parlando di finanza vera e propria, hanno questo fardello di 16 miliardi di euro di crediti che poi alla fine sarebbe debito da parte dello Stato. Quindi in un modo o nell'altro dovrebbe essere restituito questo credito. D'altra parte bloccare un'operazione in corso è sempre brutta. È anche vero che però ci sono stati e tanti abusi. Ma il problema maggiore nasce tutto da lì, perché all'inizio l'operazione era bella, perché davano la possibilità di ristrutturare tutto il patrimonio edizio italiano. Naturalmente quando non fai controlli il problema sta tutto là. Nel momento in cui non fai il controllo c'è chi ne abusa e ne hanno abusato purtroppo. Tanto e troppo.